Grazie Presidente Colero Preca per l'efficiente ospitalità e per la scelta dei temi di quest'oggi e di domattina. Ringrazio il Professor Borg per la sua introduzione. Ci ha fornito una sollecitazione molto robusta, anche con dei dati molto concreti. Ma io sottolineo quello che forse è meno concreto delle sue affermazioni, che mi ha colpito quando ha detto abbiamo perduto la capacità di sognare. Mi ha colpito perché questa mattina su qualche giornale e su qualche sito del web veniva ripresa una dichiarazione, non so se vera o inesistente, attribuita una volta all'una o una volta all'altra l'esponente politico. E cioè che un esponente politico che ha una visione deve andare dal medico. Io non so se questa cosa è stata mai detta o se è stata detta in quale contesto riguardo a cosa, ma la prendo come spunto che mi pare che possa far riflettere sullo Stato dell'Unione. Perché questo Stato d'animo è abbastanza diffuso. Abbiamo tanti problemi contingenti, concreti, del momento, presenti, difficili, impegnativi, complessi da affrontare. Perché pensare troppo alle prospettive, a immaginare degli sforzi ulteriori per problemi che sono al di là di quelli contingenti. E mi viene in mente che in realtà l'avvio della costruzione europea è dovuto ad alcune persone, uomini e donne, che hanno avuto la visione del futuro in un momento in cui dovevano affrontare condizioni ben più difficili, complesse e impegnative di quelle che noi pure abbiamo oggi. Perché quell'idea è nata durante il momento più... è il fulgore maggiore delle dittature nazifasciste. Durante le sofferenze e il dolore della Seconda Guerra Mondiale è stata attuata nell'immediata dopoguerra, nella devastazione della dopoguerra e nella ricostruzione della viare. eppure sono riusciti a dar vita a quello che oggi è l'esperimento strutturato più avanzato e moderno di regionalismo continentale, imitato in tante altre parti del mondo, dall'America Latina all'Asia sudorientale, preso come ispirazione per questa esperienza in altri continenti. Bene, questa grande realtà che è l'Unione, come è vista dai giovani? Noi abbiamo una generazione di giovani dei nostri paesi che in larga misura esentono europei. Possono andare da Porto fino a Varsavia, dalla Sicilia fino a Svezia. In Svezia non rinunzierebbero a questa facoltà, è la generazione Erasmus. Ma qual è il loro atteggiamento verso l'Unione? Nutrono entusiasmo e affetto nei confronti dell'Unione? Questo è difficile dirlo, perché alle volte l'Unione è percepita invece come una realtà distante, fredda, attenta ai pur importantissimi, sia chiaro, numeri, i numeri sono importantissimi, tu lungi da me l'idea di negarlo, ma che questa sollevi l'entusiasmo dei giovani è difficile dire. E questo è il nostro impegno, credo, di capi di Stato. E una delle strade per ritrovare questo entusiasmo e questa motivazione e questa fiducia nell'Unione è appunto la sua dimensione sociale. Quella così ben descritta al punto 3 della dichiarazione di Roma del marzo scorso è quella che ieri ha, con molta efficacia, indicato il Presidente Juncker nel discorso al Parlamento europeo. Io credo che questo sia veramente una delle più importanti condizioni per ritrovare intorno all'Unione la convinzione e l'entusiasmo delle pubbliche opinioni. E quindi occorrono, naturalmente non mi diffondo, politiche sociali ambiziose e un orientamento di politica fiscale favorevole alla crescita. Noi stiamo parlando molto e opportunamente di una nuova architettura nell'Unione di una figura di un Ministro delle Finanze a mio avviso necessaria, importante da perseguire. Sarà importante affiancare a questo qual è l'indirizzo di politica da seguire. Un indirizzo che attivi strumenti per contrastare le diseguaglianze, disoccupazione, le sacche di povertà, per ridurle, quantomeno. E questo significa avere una politica fiscale che agevole la crescita. Perché in realtà benessere diffuso e competitività non sono affatto in contrasto, tutt'altro che incompatibili. Il libero mercato è indispensabile, ma non può essere il solo mercato a dettare le regole di un modello sociale. Il modello sociale europeo è fatto da diritti, da solidarietà. È evidente che questo va perseguito. Nelle nuove condizioni che si presentano non possiamo rinunziare alla innovazione, alla tecnologia, al processo di digitalizzazione. non possiamo rinunziare alla modernità, agli strumenti che si presentano. Dobbiamo però parallelamente investire sull'elemento umano, sulla dimensione umana, sul capitale umano. Dobbiamo investire su quello perché rendendolo migliore possa utilizzare queste condizioni diverse che si presentano. credo che questo sia il nostro compito, quello sia l'obiettivo dell'Unione e sia l'obiettivo per trasformare queste condizioni che ci appaiono difficili e lo sono la digitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, le difficoltà di mercato in opportunità che facciano crescere. Questo richiede naturalmente, però è stato già detto e lo vorrei sottolineare anch'io, un'azione concorde e univoca dentro l'Unione. Rispettando, come ha detto la collega Estone saggiamente, la sussidiarietà e il valore specifico che questo ha per l'efficienza di ogni azione, ma con indicazioni e linee politiche concordamente disegnate e concordamente sviluppate. Grazie a tutti.